Ciao a tutti gli amici biker e benvenuti nel consueto angolo officina di Back Direction oggi andiamo a dare qualche suggerimento su come si lubrifica correttamente una catena per prima cosa ovviamente diamo il suggerimento di andare a lubrificare la catena quando questa è ben pulita, quando preventivamente l'abbiamo sgrassata abbiamo tolto qualsiasi traccia di impurità e tracce di grasso di olio. Andiamo a scegliere anche il lubrificante più consono alla situazione dei nostri sentieri, nel caso specifico soprattutto in autunno e primavera optiamo per un olio di intermedio, quindi con una viscosità intermedia. Potevamo scegliere anche gli altri due, Joyce e il Pedros, uno per asciutto e l'altro per bagnato con viscosità opposte, noi andiamo a scegliere una situazione intermedia. Come si fa? È molto semplice, andiamo ovviamente ad aprire il flaconcino, flaconcino che è dotato di beccuccio, andiamo a lubrificare maglia per maglia la nostra catena. Una volta fatto questo, attendiamo un po' di tempo che il lubrificante penetri all'interno delle maglie della catena, all'interno dei perni, prendiamo un panno, uno straccio pulito e andiamo a togliere la parte eccedente di olio, quindi quella che rimane in superficie. Perché lo andiamo a fare? Perché altrimenti se mi rimane troppo olio sopra la catena, questo attira molta polvere e molta sporcizia e quindi la catena a trasmissione si usura prima. Dobbiamo metterne il giusto di lubrificante, quindi quello che mi va all'interno delle maglie, all'interno dei perni per lubrificare la catena quando è in movimento. Quindi questa è, noi l'abbiamo fatto nella parte superiore, basta girare poi i pedali, ripetere la cosa anche nel, ripetere l'operazione anche nelle parti restanti della catena fino a che appunto si va a lubrificare tutta. Grazie a tutti gli amici biker, al prossimo appuntamento con Angolo Officina di Bike Direction. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!